La terra di Monoth è un posto magico e bellissimo, ma la sua storia non è affatto priva di momenti bui. Noi mali pioccheranno a migliaia tra i vicini di sofferenza e miseria! Tutto qui? Per me questo è niente! Un disperato bisogno di aiuto? Tutto il nostro mondo è in grave peric... Dovrete recarvi nei tre biomi di Monoth e recuperare i tomi della conoscenza! Sta tranquillo, Toku! Non ti deluderemo! Ma state in guardia, perché non sarà facile! Se gli altri hanno bisogno di noi, dobbiamo aiutarli! E se questo ci rende degli eroi, allora diventiamo eroi! Oh, avrei una domanda! Ma cosa dobbiamo fare?